Signori e signori, buonasera dall'area Caneva di Bassano del Grappa. Tutto a posto per il signor Treviglian, si inizia con il Breganza in possesso di Pallina. Ancora Breganza, attenzione, Breganza inizia. Edoardo Pelva, Pelva prova! Il gol di Edoardo Pelva! Andiamo a vedere il replay, signori! Ancora Breganza. Tiene il Breganza, però è di Ademarola, l'Arabassano. Pelotin, Pelotin! E qua c'è rigore, signori, andiamo a rivedere anche qua. Tottenham è contro il portiere delle Breganza. Parte Tottenham e il gol! Mattia Tottenham! Diadema, attenzione. E là, signori! Vediamolo, vediamolo questo! 3-0! Con il capitano Edoardo Pelva. Pelva per il momento in possesso di Pallina del Diadema Rigon! Niente da fare, ancora Andrea Marangoni, quindi tiene in possesso di Pallina la formazione rossa. Bianco rossa, scusatemi. Rossonene in possesso di Pallina, adesso il Breganza. Ancora prova la conclusione, gol! Gol del Breganza! Tiene palla il Diadema con Biassini! Mamma mia! Prova il Breganza e gol! 3-2! Perde Pallina il Diadema! Attenzione! Breganza in possesso! No! No! Cosa hai visto? Breganza contro Bassano! Il derby! Per! No! Sicuramente i protagonisti dell'incontro sono i due portieri. Sparata! No! Finisce così questo big match! Ciao! Ciao!